Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Beatrice Fazzi. Da dove vieni? Sono nata a Milano ma sono cresciuta in Abruzzo. Dove hai studiato? Ho studiato a Roma all'Università La Sapienza. Che cose insegni o hai insegnato a UChicago? Ho insegnato un corso su Vico come TA e adesso sto insegnando italiani. Che cosa fai nel tempo libero? Leggo, vado nei musei, vado al cinema e adesso sto imparando a suonare l'armonica. Qual è il tuo luogo preferito a Chicago? Penso che sia il lago. E il tuo ristorante preferito a Chicago? Il mio ristorante preferito è Beatnik on the Lake, è un ristorante etnico vicino al lago. Quando sei in Italia dove ti piace andare? Mi piace visitare le città e soprattutto mi piace andare nelle isole. Perché ti piace insegnare italiano? Mi piace che gli studenti di un'altra lingua e di un'altra cultura imparino a conoscere la mia lingua e la mia cultura. Un consiglio agli studenti di italiano che iniziano in UChicago. Non concentratevi solo sulla grammatica ma esplorate anche la cultura italiana che è bellissima. Ciao Beatrice, a presto! Ciao, a presto!